Probabilmente la coabitazione a un certo momento non è più stata ritenuta la soluzione migliore. Sembrano problemi di convivenza e null'altro di più. Il vice sindaco di Iesolo, Roberto Rugolotto, racconta sconcertato l'epilogo del dramma che si è consumato ieri sera in via Olanda, in una palazzina a pochi passi dall'incrocio con via Danimarca. Un sessantenne italiano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio del suo coinquilino, un cinquantotenne di nazionalità romena. Al culmine dell'ennesima lite, il sessantenne si sarebbe scagliato addosso al compagno di appartamento brandendo un coltellino con una lama di 10 centimetri. Il cinquantotenne con la gola lacerata è caduto a terra e il suo aggressore è uscito di casa lasciandolo agonizzante. La vittima è riuscita a mettersi in contatto con un amico che ha subito chiamato i carabinieri. In estremi, sei militari sono riusciti a raccogliere la testimonianza del ferito che ha rivolto accuse precise nei confronti del coinquilino. Sono conosciute dai servizi e ad entrambe era stata data l'opportunità di convivere in una coabitazione, in un alloggio privato reperito tramite una cooperativa. Dei due uomini, vittima e aggressore, non sono state rese note le generalità, ma sono entrambe persone conosciute. Le persone erano conosciute, seguite e ad una di queste era stato inviato un primo da parte della cooperativa che aveva incatenuti da porti con la proprietà. È stata inviata anche da uno spratto, diciamo, un dover lasciare l'appartamento per scaduti tempi di contatto. Non si sopportavano più e non riuscivano a condividere quell'alloggio nel quale si erano trovati giocoforza a convivere. L'eco delle liti pare fosse conosciuto ai condomini che più volte avevano segnalato la situazione che ieri sera è degenerata. Il presunto aggressore è stato rintracciato poco distante da casa, al bar, ma non ha ammesso alcuna responsabilità. Dalle prime ore di oggi l'uomo è rinchiuso nel carcere di Venezia. Il 58enne è invece in fin di vita all'ospedale di Padova. Nell'appartamento i carabinieri hanno recuperato l'arma del delitto e repertato numerose tracce che vengono analizzate in queste ore.